Presentazione del corso per diventare milionari Il mio io milionario è presente nel mio intimo in attesa di manifestarsi, perché se voglio davvero essere milionario, lo sono davvero, solo che non lo so ancora. Salve, benvenuti nel corso di formazione IeroniCampus per diventare milionari, un corso che vi aiuterà nella vostra aspirazione a diventare milionari in modo completamente gratuito. Durante tutti i corsi assisterete alla nascita del vostro nuovo sé milionario, dove aprirete gli occhi su una nuova vita piena di gioia, felicità e abbondanza, con nuovi paesaggi che solo voi siete in grado di immaginare e creare, con nuovi scenari che solo voi siete in grado di creare e dove l'attore principale siete voi, che attraverso la vostra volontà date forma e significato al vostro lavoro in modo consapevole. Si tratta in definitiva di un nuovo universo, il vostro universo, senza limiti, dove voi, come costruttore, siete colui che lo controlla in tutti gli aspetti. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare le cuffie per godere del suono sul round 8D. Si può ascoltare mentre si cammina, si fa esercizio fisico, si va in metropolitana, in autobus, oppure semplicemente mettersi comodi, chiudere gli occhi, meditare e godersi il contenuto. Quest'ultimo è il modo che consiglio di più. La mia esperienza di oltre 25 anni sia come studente che come insegnante, dalla scuola primaria a livello post laurea, mi ha dimostrato che la pratica dell'insegnamento e dell'apprendimento non deve essere un calvario pieno di sofferenza e amarezza per ottenere un titolo di studio con il fine ultimo di aggiungere una medaglia in più al curriculum vitae. Perché in tal caso, saremmo più di fronte al superamento di una procedura amministrativa, che ha un processo di apprendimento efficace. In questo corso, quindi, la prima cosa che vi chiedo di fare prima di iniziare è di rompere con tutte le vostre idee precedenti su come dovrebbe essere un corso tradizionale e di lasciarvi trasportare dal piacere di acquisire una nuova conoscenza, una luce che all'inizio può accecarvi, ma che poi, man mano che vi abituate alla nuova chiarezza, vi permetterà di vedere un mondo con nuove prospettive e con colori più nitidi attraverso la scoperta della vostra capacità di stupirvi di fronte a nuove conoscenze. Dedicatevi quindi a godere di ogni parola, di ogni frase, di ogni paragrafo, perché sono concepiti e scritti nell'ottica di dare il meglio di me stesso, della mia conoscenza e della mia esperienza a voi, affinché possiate a vostra volta dare il meglio di voi stessi, sia per voi che per gli altri, ed è per questo che tutti i miei corsi sono completamente gratuiti, e non perché siano gratuiti, ma perché mancano di qualità, di ricerca e di riflessioni profonde. Questo canale e tutti i corsi gratuiti sono mantenuti attraverso le sottoscrizioni, quindi se ti piace e vuoi contribuire al suo mantenimento ti chiedo di iscriverti, inoltre se vuoi ricevere informazioni sui video che carico regolarmente sulla piattaforma, attiva la campanella. Se volete donare quello che volete, vi ringrazio nell'anima, perché questo mi aiuterà a continuare con più entusiasmo e più gioia a generare altri corsi gratuiti. Nota importante, tutti i video del corso possono essere utilizzati come mezzo di meditazione, poiché l'intento è quello di utilizzare e potenziare la vostra enorme capacità di visualizzazione e scoprire le meraviglie che il vostro cervello è in grado di generare. Mi rendo conto che i contenuti che state per ascoltare possono essere a volte complessi, ma sono stati pensati e sviluppati per aiutarvi a intravedere nuove prospettive e scenari di sviluppo nella vostra vita, o nella vita. Potete anche ascoltarlo tutte le volte che volete, in modo da cogliere e integrare nel vostro intimo la profondità e l'essenza di un messaggio che è pensato e dedicato solo a voi. In questa dissertazione accademicamente rigorosa imparerete come iniziare il vostro viaggio verso il vostro sé milionario, milionario, facendo nascere il vostro nuovo sé milionario, milionario. Per renderlo possibile, dovrete innanzitutto preparare la vostra mente a essere in grado di affrontare un apprendimento profondo, duraturo e completo, mettendo il vostro cervello in condizione di raggiungere il suo massimo potenziale di comprensione. Accederete alla vostra mente subconscia nella misura in cui vi sentirete rilassati e con la mentalità di voler imparare, perché è solo nella misura in cui vorrete aprire le finestre dei vostri sensi alla luce della conoscenza, che genererete le condizioni necessarie per raggiungere lo stato di massimo apprendimento, al fine di trasformarvi e trascendere in quella persona di successo, abbondante, felice e milionaria che siete già da ora. Poiché il protagonista, il protagonista siete voi, dovete capire che il vostro cervello non distingue tra un evento immaginato e uno reale e che l'esperienza che vivrete sarà per voi un'esperienza reale. Voi siete il costruttore, il costruttore, la mente, il mago, il mago, il genio, il genio, il creatore, il creatore. Capite che, se immaginate qualcosa nella vostra mente, il vostro cervello presume che abbiate effettivamente sperimentato ciò che stavate immaginando, ed è così che create nuove interconnessioni neurali che vengono immagazzinate, rendendo sempre più complessa la vostra rete neurale, che in definitiva riguarda il vostro io, i vostri concetti e la portata dell'universo conosciuto e da conoscere. Pertanto, vi invito a godervi tutti i miei corsi. Grazie a tutti i miei corsi.